Non vince ma strappa un punto preziosissimo al cospetto di una squadra che ha perso in questo campionato di Serie C una sola volta davanti al pubblico del Viviani. Va bene così al Cerignola, va bene nel turno infrasettimanale della sedicesima giornata, lo 0-0 in trasferta nel derby Apodo Lucano con il Potenza, risultato che permette agli ofantili di collezionare il sesto risultato utile consecutivo, compresi tre successi e di godersi per la prima volta in questa stagione il quarto posto solitario in classifica alle spalle delle irraggiungibili Catanzaro, Crotone e Pescara. Quinto risultato utile di fila di cui però ben quattro pareggi per i Lucani, il punto aggiunto al proprio totalizzatore fa comunque bene in chiave salvezza. Novità di formazione su ambo i fronti inevitabile alla luce dei tanti impegni ravvicinati, Cerignola in maglia bianca e senza bomber malcore nell'undici di partenza davanti Neglia più d'Andrea, buon approccio per gli uomini di Michele e Pazienza seguiti al Viviani da oltre 100 sostenitori. Potenza pericoloso invece intorno a metà frazione, Caturano con un colpo di tacco, lancia di Grazia che entra in area e trova la deviazione determinante in corner di Ligi. E anche l'azione più pericolosa della prima frazione di gioco, insieme a quella non sfruttata sempre dal Potenza, Contalia è entrato in campo poco prima, Capomaggio è bravo a fare da muro. Buona occasione pure per il Cerignola, prima dell'intervallo, D'Andrea riceve palla dal limite, calcia indisturbato ma alza troppo la mira. Duplice fischio, riposo, ripresa che si apre con una chance colossale per la squadra di Michele e Pazienza. Lo stesso D'Andrea lanciato da Russo scatta sul filo del fuorigioco, la bandierina resta giù nella circostanza ma si perde sul più bello davanti a Gasparini, poi Sainz-Mazza sbaglia la mira sulla ribattuta, dà la sensazione di non accontentarsi del pari il Cerignola che va in gol poco dopo proprio con D'Andrea ma è tutto inutile, c'è fallo precedente in attacco di Tascone, rete annullata. Pazienza getta nella mischia malcore ma è il Potenza a prendere coraggio, ci vuole un super intervento di Saracqua, metafrazione per dire di no al neo entrato e Mauso ancora a provvidenziare il portiere dei pugliesi poco dopo sul destro secco di Italia. Tascone, prima dello scadere, cerca ma non trova l'euro gol della distanza per una questione di centimetri e l'ultima emozione della partita finisce 0-0 al Viviani, diventano 24 i punti degli Ofantini, 17 quelli dei Lucani, domenica si torna in campo per l'ultimo atto del trettico in otto giorni, a Cerignola arriva la vice capolista Crotone, Potenza invece di scena in trasferta contro un'altra pugliese, il monopolio al Veneziani.